Buongiorno a tutti, nell'ambito del festeggiamento dei 10 anni di sinestesia, oggi abbiamo l'onore di avere con noi un torinese d'eccezione che parte da Torino, ma che a dire la verità è famoso in tutto il mondo, ed è Mauro Berruto. Ciao Mauro. Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Mauro, da dove cominciamo con te? Tu hai fatto veramente tantissime cose nella vita, hai fatto del trasformismo, una delle tue caratteristiche principali, sei passato da sportivo, allenatore di pallavolo, ad amministratore della scuola Holden, di nuovo allenatore di un altro sport, tra l'altro devo dire che soprattutto nella tua carriera di allenatore di pallavolo sei stato uno dei miei eroi in quanto hai vinto una medaglia olimpica a Londra 2012, la quale io ero spettatore, assolutamente coinvolto emotivamente in tutte le vicende della nazionale che allenavi. Quindi passi dal mondo del volley a quello della scrittura, puoi raccontarci quali sono state le tappe fondamentali in questo tuo percorso di trasformazione? Mi sarebbe piaciuto moltissimo dirti, sai ero molto forte a giocare a pallavolo, qualche mio collega ti direbbe ero molto forte e poi mi sono fatto male, ho dovuto incominciare ad allenare, invece io ero sano come un pesce e non avevo il talento dell'atleta, quindi la mia formazione, il mio background anche scolastico, universitario è di tutt'altro genere, io mi sono laureato in filosofia. La fortuna mia è stata quella di avere svolto quel mestiere lì in contesti anche culturalmente molto diversi l'uno dall'altro. Ne porto, oltre a tutte le città in cui sono stato in Italia, va bene, ma porto i due estremi, che sono i tre anni che ho passato in Grecia e poi i sei che ho passato in Finlandia prima della nazionale italiana. Allora, è chiaro che il mestiere è lo stesso, cioè tu devi cercare di vincere partite, ma allenare un atleta greco, allenare un atleta finlandese non è la stessa cosa. Anche le altre cose che tu hai citato e che ti ringrazio e che sono tutte parti importanti della mia vita nascono da due cose fondamentali. Una è una curiosità infinita, La seconda è la bellezza di una parola che ti chiedo di poter usare perché nell'ultimo anno è stata ovviamente utilizzata tanto, ma con un significato sempre negativo, che è la parola contaminazione. Dovremo riappropriarci della bellezza della parola contaminazione e questo sarà un lavoro che dovremo fare post pandemia, cioè tornare a convincerci che la relazione, il contatto, davvero la mescolanza delle culture e delle esperienze è un fatto generativo. Allora, la parola di oggi è cultura e mi sembra che il tuo discorso sia assolutamente centrato in quanto fa parte della cultura saper contaminare le diverse esperienze. Mauro, nel corso della tua carriera sei stato un allenatore di pallavolo di successo e hai avuto risultati importanti sia in contesti europei piuttosto che ovviamente il contesto olimpico di cui parlavamo anche prima. Qual è però il vero insegnamento che porti con te da tutte queste esperienze? Io ho avuto la fortuna di partecipare due volte ai giochi olimpici, una da assistente allenatore nel 2004, tra l'altro vincendo la medale d'argento con Gian Paolo Montali in quell'occasione, e poi la mia edizione, insomma, da Londra nel 2012 dove ero capo allenatore. E in entrambe le occasioni quello che ho imparato è la meravigliosa ispirazione che ti restituisce l'idea che tu prepari ossessivamente un appuntamento con un'attenzione ai protocolli, ai dettagli, ai particolari per quattro anni veramente totalizzante. Tu dedichi veramente tutto a mettere tutto in ordine, arrivi perfettamente consapevole e pronto grazie al lavoro che hai fatto nei quattro anni prima e quando arrivi lì scopri che nessun parametro è uguale a quello che pensavi, che preparavi, scopri che esiste una meravigliosa dimensione dell'inallenabile nella prestazione che a noi allenatori piacerebbe eliminare, perché ci piacerebbe avere sempre tutto sotto controllo, avere tutte le soluzioni pronte a qualunque imprevisto succeda. E invece la differenza la fa quell'area inallenabile, perché è vero che non si può allenare inallenabile per definizione, ma si può allenare quello che tu fai, il modo in cui tu reagisci quando ti si presenta di fronte una situazione che non potevi prevedere. Mi verrebbe da riflettere sul fatto che ci è capitato proprio in questo modo qua, 13 mesi fa, la stessa cosa. Naufragati su un'isola deserta, stavamo navigando, qualche volta c'era il mare mosso, qualche volta era piatto, però insomma la nostra decisione era quella di seguire una rotta, il naufragio non è una decisione. Quello che tu puoi fare quando scopri che sei ancora vivo e ti svegli sulla spiaggia e non hai magari le cose che avevi con te sulla barca è decidere quanto puoi rispondere in maniera proattiva a quello che ti è capitato. E questa cosa qua io l'ho imparata certamente ai giochi olimpici. Ciao! 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 Ciao!